Abbiamo scritto un contratto con la Lega, riusciremo a scrivere un manifesto con altre forze politiche europee con cui condividiamo già diverse battaglie, per esempio contro l'austerity, su maggior lavoro e tutela dei diritti del lavoro, ma anche sulle nuove tecnologie e sull'ambiente. Abbiamo una buona base per costruire un gruppo che non sia né di destra né di sinistra. Per Gile Gialli, l'avete incontrato? A breve, avremo contatto e faremo un'idea. La proposta che ha presentato il vostro senatore Mantero sulla cannabis, voi cosa ne pensate? Salvini ha detto che non è nel contratto di governo, non si farà. È chiaro che stiamo in un governo in cui abbiamo scritto un contratto di governo, non tutto c'è in quel contratto, ma io quella proposta l'ho sostenuta nella precedente legislatura, quindi è una buona proposta. Poi, ovviamente, adesso portiamo a casa gli obiettivi del contratto, non la vieta che in futuro il contratto, come si è detto, possa essere aggiornato. Adesso noi siamo concentrati sugli obiettivi.